Ciao amici, bentornati su Dite la vostra che io dico la mia. Parliamo della notizia bomba del giorno. Arianna Meloni, la sorella del Premier Georgia, starebbe per essere indagata per traffico di influenze. La notizia bomba l'ha lanciata il giornale nella giornata di ieri e l'ha lanciata in modo pesante, ipotizzando anche un complotto. Il complotto chi l'avrebbe urdito? Giornali, politici e magistratura. Obiettivo ovviamente par cadere il governo Meloni. Ieri Donzelli, uomo di punta di Fratelli d'Italia, partito di maggioranza relativo vicinissimo al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ripreso in modo molto pesante in un video la notizia del giornale rilanciando l'ipotesi di complotto e ovviamente alzando in modo importante il tono sulla vicenda. In serata, la stessa Meloni, contattata da Lanza, definisce verosimile l'ipotesi descritta dal giornale, ricordando anche le vicende giudiziarie di Berlusconi. Tutto questo, insomma, ci fa dire che la situazione è grave. Oggi ovviamente tutti i giornali riportano questa questione, ognuno dà una sua lettura, ma sicuramente è esplosa. Ora, si parla di complotto, ma può essere verosimile l'ipotesi di complotto? Beh, io non escludo mai nulla nella vita, però mi pare strano che il fatto quotidiano che per primo ha lanciato il fatto che Arianna Meloni fosse in una riunione sulle nomine RAI, mi sembra, e per questo ho messo in dubbio per quale ruolo, con quale potere partecipare a queste riunioni. I deputati di Italia Viva che hanno ripreso questa notizia e chiesto in un'interrogazione a quale titolo fosse lì. La magistratura che ancora ad oggi non ha notificato nessuna indagine a carico di Arianna Meloni, e quindi ad oggi ancora attenzione, non c'è nessun atto formale che ci fa dire che Arianna Meloni sia indagata per traffico di influenze, se non un articolo del giornale dove dice vogliono indagare, vogliono ma ancora non l'hanno indagata, quello che sappiamo noi, e quindi il complotto, se fosse vero nel senso il governo o comunque il partito di maggioranza o comunque il giornale da cui sta partendo questa battaglia, ha in mano delle informazioni innanzitutto che noi non abbiamo, ossia l'indagine a carico di Arianna Meloni. Poi vi è stata la capacità di spostare già l'obiettivo, perché se si voleva colpire Arianna Meloni per far cadere il governo, oggi si dà per assunto che Arianna Meloni sia indagata e si va oltre, si parla di ipotesi di complotto e su questi si fanno i ragionamenti, vero o falso? A mio giudizio serve un'indagine, serve un'indagine della magistratura ordinaria o una commissione di inchiesta parlamentare per fare luce su tutto quanto, perché se vi è un'ipotesi di complotto reale, questa ovviamente va verificata, perseguita e fermata sul nascere, anche perché ne va della nostra democrazia. Se invece non ci fosse un'ipotesi di complotto di questo genere, non fosse vera, evidentemente va chiesto il perché è stato scatenato questo putiferio di cui tutti oggi parlano. Insomma, nell'un caso o nell'altro va verificato bene da chi di dovere che cosa sta veramente succedendo e perché. Di sicuro c'è che la politica sta reagendo in modo vehemente a questa cosa e mi fa sospettare che ci siano cose che ad oggi noi ancora non sappiamo e che sapremo a breve. Questa è la mia opinione, voi dite la vostra nei commenti e noi come al solito ci vediamo domani.